Ehi guardia, ferma un attimo! Che ne dici di fare un TikTok dove tu balli e io ti guardo il c***o? Non potresti avere un telefono in carcere! Ho 4 milioni di follower! Oh, cosa stai facendo? Ciao, bella! Torna immediatamente qua! E noi che abbiamo il migliore di like!